E' morto folgorato mentre effettuava dei lavori all'interno di un locale destinato ad ospitare un'attività commerciale di gastronomia. Tragedia ieri sera a Salerno sul lungomare Colombo a perdere la vita un operaio 36enne di nazionalità rumena. Georgiou Christian, questo il suo nome, deve aver toccato col martello pneumatico la condotta portante di elettricità che serve l'intero condominio. Una scarica letale. A dare l'allarme sono stati due operai che lavoravano con lui. Immediato l'intervento dei volontari dell'Humanitas che per quasi un'ora hanno provato a rianimare l'uomo. Sul posto anche i carabinieri che hanno ascoltato i due colleghi di lavoro e che, su disposizione del magistrato di turno Maurizio Cardea, hanno sequestrato il cantiere. Le indagini chiariranno l'esatta dinamica dell'incidente e il rispetto dei requisiti di sicurezza da parte della ditta incaricata. Sconcerto fra i residenti della zona i quali hanno già assistito nel recente passato ad episodi del genere. Proprio nello stesso locale fra i civici 167 e 169 del lungomare Colombo. Quelle due vetrine nonostante i vari tentativi non hanno praticamente mai visto un negozio. Tanti ricordano un'altra morte proprio in quegli ambienti. Un malore infatti stroncò un salernitano che voleva aprire un negozio di acquari ma dopo il decesso non se ne fece più niente. Saracineschi abbassate fino a qualche settimana fa quando sono ripresi i lavori per la stuzzicheria e ancora una volta una tragedia ha bussato alle porte di questo locale poco fortunato.